Musica Te spettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediogene oggi dedicata in gran parte al maltempo, all'indomani del passaggio del ciclone Nettuno. Comincia la conta dei danni. Nettuno, il ciclone che ha investito tutta la Calabria Ionica e in particolare Crotone, aveva questo nome, come il Dio del mare. E come il Dio del mare, dal mare è venuto uno dei pericoli più grossi. Le onde ieri erano enormi, c'è stata anche un'onda anomala che è stata misurata in 10 metri e 4. Quindi un'onda enorme che quando è arrivata sulla terra qualche danno l'ha prodotto. Ha prodotto danni qui all'interno del nostro porto, ha prodotto danni nel porto piccolo, nel porto Peschereccio. Ha prodotto danni soprattutto nel porto di Ciron Marina, che è una delle realtà che ha accorsi rischi maggiori per l'alluvione di ieri, per il ciclone di ieri. In città, come sono andate le cose? In città ha funzionato la macchina organizzativa messa in campo sia dalla Prefettura sia dal Comune di Crotone. Ha funzionato la macchina dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza fermarsi un attimo. E il lavoro dei Vigili del Fuoco ha consentito di salvare una vita. Nonostante l'appella a non mettersi in macchina, c'è stato uno sprovveduto che a trafinello ha rischiato di morire perché l'acqua stava trascinando la sua auto. Come si vede dall'immagine. Grazie all'intervento del Vigili del Fuoco, questa vita umana si è salvata. Altrimenti, ancora una volta, avremmo avuto a Crotone, avremmo pianto un morto. Il pericolo è maggiore, abbiamo detto, il mare. Ma il pericolo a Crotone è arrivato anche dai corsi d'acqua, dagli affluenti. Il lesero è salito quasi fino agli argini. Si è mantenuto il fiato sospeso fino all'ultimo minuto, fino a quando la pioggia non è cessata. Si è mantenuto il fiato sospeso perché mai come ora abbiamo rischiato che l'esero trascimasse gli argini e invadesse le case. Ma ci sono stati lo stesso allegamenti. L'esero ha tenuto... perché ci sono stati questi allegamenti? Ci sono stati gli allegamenti perché dai canali che arrivavano affluenti dell'esero, che raccolgono le piogge, lì c'è stato il problema. Siccome l'esero aveva gli argini alti, l'acqua che arrivava da questi canali è tornata indietro e quindi ha invaso le strade, ha invaso le case. C'è stata una situazione di emergenza a Margherita, a Bucchi, dove sono state soccorse alcune famiglie, sono state portate via dalle loro case e invase dalle acque. C'è stato a Topanello, di nuovo a Rocca di Neto, c'è stata la situazione di emergenza a Belvedere Spinello. Questa notte sono stato chiamato da un cittadino, erano le 12 e un quarto, mezzanotte e un quarto, sono stato chiamato da un cittadino esasperato di Belvedere Spinello al mio cellulare. Perché? Perché ieri sono andati via sia il telefono che la luce. Si sono interrotti questi due servizi, era mezzanotte, ieri pomeriggio, intorno dopo mezzogiorno, è andata via la corrente elettrica, è andata via il telefono, era mezzanotte e ancora la corrente e la telefonia non è stata ripristinata. È chiaro che in situazioni di emergenza, anche per il riscaldamento, visto che poi caldo non ne va, c'è umidità, la gente si bagna, senza la corrente elettrica non si va da nessuna parte e la paura di non avere il telefono pure in casa per chiedere aiuto è una cosa terribile. I danni sono enormi, sono ingenti, per fortuna non agli uomini, alle cose, all'agricoltura. L'agricoltura, che è uno dei settori, che forse è l'unico settore economico importante del nostro territorio, è diventato l'unico, è rimasto l'unico, è stata messa in ginocchio. Quest'acqua ha distrutto molte delle culture che erano in campo e quindi adesso si farà il conteggio dei danni. Domani, oggi è ripresa a piovere, dopo alcune ore di fermo, sta piovendo a tratti, speriamo che non torni più, anche se per domani è previsto di nuovo il ritorno della pioggia. E nella situazione in cui siamo, con l'emergenza che abbiamo, potrebbe rappresentare ancora un pericolo. E stamane, presso il comando dei vigili di Crotone, conferenza stampa indetta dal sindaco Peppino Vallone, per fare il punto sulla situazione in città a seguito dell'emergenza maltempo. Il giorno dopo l'arrivo di Nettuno si fa la conta dei danni, la città ha retto bene intanto, non ci sono stati morti per fortuna, solo danni materiali. Assolutamente sì, la diversità credo rispetto al passato, intanto credo che è una città molto attenta dopo le esperienze negative che abbiamo avuto nel 96. Quindi c'è stata anche una forma di collaborazione della città su una serie di interventi che il comune e la prefettura hanno realizzato come informativa preventiva. E naturalmente questo ha messo nelle condizioni anche di organizzare una macchina preventivamente per essere pronti, poi nel momento in cui sapevamo sarebbe verificata l'evento molto intenso dal punto di vista piovoso appunto. Qui proprio in questi uffici, all'interno della Polizia Municipale, abbiamo avuto la presenza costante oltre che della Polizia Municipale come rascondato, soprattutto anche del volontariato, delle associazioni di volontariato, che per tutta la notte in maniera intensa sono stati presenti, hanno monitorato i punti critici della città, sono intervenuti materialmente nei punti critici della città. Il nostro ufficio tecnico, diciamo, dei lavori pubblici costantemente per tutta la notte è intervenuto, ha richiesto la collaborazione di imprese del territorio che sono intervenuti tempestivamente man mano che i problemi sorgevano. Tutto questo ha consentito di limitare i disagi. È stato un coordinamento anche con la Prefettura, con i Vigili del Fuoco, con le altre forze di polizia o no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi periodicamente ci spostavamo di qui per recarci in Prefettura e lì c'era un quadro più complessivo della provincia. Naturalmente fornivamo i dati che avevamo a disposizione della città proprio per richiedere anche la collaborazione degli altri operatori, delle altre forze di polizia e dei Vigili del Fuoco che avevano già anche loro un loro monitoraggio. Quindi questo confronto ci ha consentito di limitare al minimo, nei limiti in cui è stato possibile, tutti i disagi per i cittadini. L'altro aspetto positivo del Preallerta, che è stato un Preallerta questa volta che ci ha informato in tempo, ci ha consentito anche di mettere in sicurezza alcune famiglie che sono in area di crisi. E quindi abbiamo avuto la possibilità, con la collaborazione di quelle famiglie e di quei cittadini, di sgomberare quei fabbricati che erano a rischio, in punti critici a rischio, per cui anche sotto questo aspetto siamo riusciti. La macchina ha funzionato. Quali sono stati i punti più critici? I punti più critici sono i soliti. Sono i soliti intanto l'essero arretto, poi noi abbiamo una serie di sbocchi nell'estero di una serie di canali. Quando l'essero sale di livello questi sbocchi purtroppo non defluiscono con la facilità con cui quando l'essero è più basso riesce a defluire e questo provoca una fase di ritorno dell'acqua. Quindi in alcune parti, ad esempio San Francesco e una parte del Gesù, questa criticità l'abbiamo avuta. Poi i fatti naturali, però gli interventi immediati, è caduto un albero nel Falcosa e naturalmente ha costituito un tappo in un dato, però siamo riusciti anche lì ad intervenire immediatamente. Cioè una serie di attività che purtroppo si verifichano in queste circostanze. L'ultima questione, Sindaco, ma il tempo non è finito. Domani si prevede di nuovo una coda di questo tifone che ha investito tutta la Calabria, adesso anche la Puglia, fino all'Abruzzo. Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto preoccupante diciamo. Infatti questa sala alle due del pomeriggio ritornerà ad essere operativa, sarà operativa per tutta la nottata fino alla giornata di domani. A mezzogiorno abbiamo un'altra riflessione in prefettura da fare in maniera collegiale. Valuteremo insieme la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Perché oggi le scuole sono... c'è l'ordinanza ieri per la chiusura delle scuole per oggi. Valuteremo anche per domani insieme rispetto ai dati che socializzeremo in quella riunione proprio per consentire un'attività per la giornata di domani che speriamo sia l'ultima di questa lunghissima serie di eventi purtroppo non positivi. Soprattutto vi ringrazio per l'inormazione quest'anno che abbiamo fornito alla città durante queste ore che abbiamo caratterizzato questi due giorni. E dopo la conferenza stampa il sindaco Vallone ha disposto con propria ordinanza a seguito delle perduranti condizioni atmosferiche avverse la chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado anche per domani, martedì 3 dicembre. E sempre per colpa del maltempo, poteva essere l'ennesima tragedia in mare ma fortunatamente è finita bene, marina militare e capitaneria di Porto sono state impegnate sin da ieri nel soccorso di un natante con a bordo circa 120 migranti, tra cui molte donne e una ventina di bambini alla deriva circa 70 miglia a suddestre di Crotone per un guasto al motore. L'allarme, ricostruisce la marina, è stato lanciato da un cittadino egiziano con una telefonata satellitare giunta al comando generale delle capitanerie di Porto. Nelle serate di ieri, così, la fregata grecale della marina militare impegnata nell'operazione Mare Nostrum ha raggiunto il natante ma le avverse condizioni del mare a forza 7-8 non hanno consentito il trasbordo sui mezzi di soccorso che è cominciato solo nella tarda mattinata di oggi. Per tutto il periodo, aerei, pattugliatori ed elicotteri con equipaggio misto marina-euronatica si sono alternati per monitorare le condizioni del peschereccio nell'eventualità di intervenire qualora necessario con il lancio di battelli autoconfiabili e salvagenti individuali. Sul posto sono intervenuti 7 mercantili in transito che navigando intorno al peschereccio hanno offerto un riparo dalle onde in maggiore sicurezza per la stabilità. Poi, come già detto, nella tarda mattinata di oggi nonostante il mare agitato ha preso il via il trasbordo su unità della Guardia Costiera dei migranti a bordo del barcone alla deriva a largo di Crotone ed è previsto che arrivino in serata nel porto di Roccella Ionica le due unità della Guardia Costiera sulle quali sono stati trasbordati circa 120 migranti l'avvicinamento al barcone e il trasbordo sulle due unità secondo quanto comunicato da fonti della Prefettura sono stati resi possibili dal parziale miglioramento delle condizioni meteo-marine nonostante le molte ore alla deriva sono buone le condizioni di salute dei circa 120 migranti che dovrebbero essere di nazionalità siriana e di questa vicenda e anche degli altri danni causati al sistema portuale del Crotonese dal ciclone Nettuno parliamo con il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone Siamo nella sala operativa della Capitaneria di Porto con il comandante e i suoi uomini che stanno ancora lavorando ieri è arrivato il tifone Nettuno che gli hanno dato questo nome perché volevano legarlo al mare probabilmente perché Nettuno era il dio del mare allora il mare ieri è stato in tempesta qui da noi ci sono state onde che sicuramente avete misurato pure voi che hanno superato i 10 metri di altezza Sì è stato un mare abbastanza molto grosso le boe che ci sono nella zona dell'area marina protetta hanno segnato anche onde di 10 metri per cui effettivamente essendo il sud est i venti dello scirocco i mari dello scirocco molto potenti in questa zona ha creato questo muro di acqua che impediva rendeva molto difficoltoso anche svolgere interventi in mare quindi il mare è stato veramente importante ieri Quindi non avete fatto interventi a mare voi? No, non ci sono stati interventi si sta seguendo la direzione di Mettere Giocalabria questa operazione di soccorso a questo barcone con un centinaio più o meno i dati non sono certi Quello di cui si è parlato nei telegiornali nazionali in mezzo a questa tempesta si è trovato un barcone di extracomunitari che provenivano dall'Africa probabilmente provenienti dall'Africa sono trovati in Valliera delle Onda Non abbiamo ancora certezza sulla loro provenienza sono un centinaio più o meno ma dati indicativi che ci hanno dato loro l'attività di coordinamento è svolta dalla direzione marittima lì sono dispiegati in zona 5 unità mercantili c'è una nave della Marina Militare ci sono degli elicotteri della Marina Militare un elicottero delle Capitanerie un aereo dalla Fissa della Capitaneria che si alternano nell'attività di monitoraggio Voi non siete intervenuti Noi non siamo intervenuti perché è stato ritenuto più proficuo fare intervenire vedete proveniente da altre zone perché più di più utilità Più potenti insomma No, più potenti no sono delle stesse di nostre però affrontavano il mare in maniera migliore rispetto al nostro quindi potevano raggiungere con più velocità e quindi con migliore condizioni di poter dare supporto migliore la zona delle operazioni la nostra è partita nell'emprimore dell'Alba stamattina è già in zona operazioni e stanno valutando proprio in questi momenti siamo intorno a mezzogiorno di procedere allo sbarco al trasbordo dei migranti dall'imbarcazione da pesca dalla carretta del mare alle nostre unità e poi vedere qual è la migliore soluzione Comandante, lì c'è una rappresentazione reale dal satellite Questa è una rappresentazione tramite il sistema IIS Automatic Identification System di cui sono ormai dotate tutte le unità Vediamo spostarci e facciamo vedere ai nostri telespettatori Quindi qui viene ripreso dal satellite o da altro mezzo? No, da un sistema con onde radio perché trasmette come una televisione in broadcast tecnicamente per cui trasmette i dati a tutti quelli e alle stazioni che sono in grado di riceverle Quello che lampeggia in quell'area esattamente in quell'area che stanno lavorando e quindi là ci sono come dicevo le due unità adesso SAR come la nostra che svolgeranno le operazioni di trasbordo stanno valutando le condizioni migliori Hanno rifocillato per quanto è stato possibile le persone a bordo attraverso il lancio di acqua di viveri li hanno rassicurati sull'intervento non appena ci sono le condizioni di sicurezza perché la prima cosa la sicurezza perché una persona che cade in mare in quelle condizioni diventa difficile poi soccorrerla per cui le valutazioni che stanno compiendo a livello diciamo sia da Reggio Calabria che da Roma è quella di fare queste condizioni in sicurezza per il momento non c'erano adesso si stanno aprendo una finestra che ci consentirà di soccorrere quelle persone ancora maltempo restiamo nei pressi del porto di Grotone il tempo si è aggiustato ma l'emergenza non finisce almeno a mare guardate che onde arrivano siamo nella zona tra il porto vecchio e il porto nuovo siamo qui non solo per farvi vedere queste scene incredibili di queste onde che non sono da poco tra poco infatti ci stiamo dovuti correre per non bagnarci sono onde altissime non solo questo ma per farvi vedere quello che la forza delle acque ieri ha prodotto i danni prodotti dalle acque qui questa è la zona dove c'era il deposito carburanti una volta qui c'erano c'erano i contenitori con i carburanti è una zona fortemente inquinata potete immaginarlo perché è inquinata perché la presenza di carburanti ci sono state infiltrazioni anche questa è una zona che doveva essere bonificata non è stata bonificata adesso la pioggia di ieri il maltempo di ieri ha abbattuto questo muro fatto a cubetti di dieci metri di lunghezza saranno ma di due metri di altezza l'acqua del mare ieri qui è arrivata fino al muro e oggi continua a imperversare a essere molto mosso il mare e chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo ad aggravare i danni anche l'emergenza rifiuti perché quando piove la città si allaga ieri è stato un evento eccezionale ma si allaga anche quando gli eventi non sono a livello di ieri perché le cadetone dell'acqua sono tutte otturate in particolare siamo qui nei pressi della Capitaneria di Porto ieri qui era allagato e ha bloccato in qualche modo anche l'entrata e l'uscita alla Capitaneria di Porto agli uomini della Capitaneria di Porto ha reso difficoltoso anche il loro intervento perché non solo non sono state pulite le cadetone in tutta la città ma nelle zone dove c'è la spazzatura la spazzatura è stata mossa e è andata a ostruire ulteriormente le cadetone che non erano già state pulite è un problema incredibile ancora la città è piena di spazzatura e ieri non galleggiavano sull'acqua i sacchetti della spazzatura galleggiavano sull'acqua e hanno creato anche problemi ai problemi che c'erano già ancora non è stata risolta la questione della spazzatura e in prospettiva non c'è questa soluzione non c'è questa città è condannata a vivere a convivere con montagne di spazzature e quando piove queste montagne si sommano al pericolo che c'è già politica locale come già detto si è aperta ufficialmente la crisi al comune di Crotone ne parliamo con Emilio De Masi che a tal proposito ha convocato per mercoledì prossimo il tavolo del centro-sinistra Emilio De Masi leader di Agenda 139 partecipando al congresso di SEL dal palco ha informato il nuovo segretario provinciale del PD Arturo Cugliano Pantisano che il giorno dopo gli sarebbe arrivato una lettera ufficiale con la quale si chiedeva io la chiamo crisi l'apertura della crisi al comune di Crotone la verifica la verifica al comune di Crotone poi i politici la chiamate verifica i giornalisti la chiamiamo crisi era il giorno dopo puntuale come un orologio svizzero d'altra parte De Masi è una persona seria non avevamo dubbi su questo il giorno dopo la mattina dopo mentre era in corso il consiglio comunale era presente anch'io e arrivata quella lettera avete invitato i rappresentanti della maggioranza a fare una verifica che si terrà in questa sede il mercoledì mercoledì prossimo dopo domani alle ore 16 e 30 lei ha raccontato con il piglio del giornalista curioso e quindi con qualche tono e qualche espressione un po' più forte quella che è la verità in sostanza ma la ragione vera che mi ha indotto a chiedere un incontro che probabilmente si tramuterà in una verifica programmatica e amministrativa che non deve scandalizzare nessuno perché attiene a quelli che sono i doveri dei partiti e dei movimenti politici nasce in particolare dalla finalmente ritrovata leadership provinciale ufficialmente riconosciuta del primo partito della coalizione avevate in mente da tanto tempo appena il partito democratico si è messo in regola con gli organismi avete convocato l'incontro questo è il senso esattamente esattamente così d'altro canto noi tutti lo stesso sindaco ha sempre lamentato un qualche deficit politico rispetto all'azione amministrativa derivante dal fatto che i partiti e in particolare il suo che è quello predominante per consistenza non avevano l'ordine proprio di partito organizzato tale da potergli consentire giusti orientamenti le giuste verifiche i supporti politici che sono necessari per rendere l'attività amministrativa straordinaria all'altezza delle sfide straordinarie che questa città purtroppo presenta quindi è da qui che partiamo secondo me con le cose non vanno bene altrimenti se le cose fossero andate secondo il desiderio del suo partito del suo movimento lei non avrebbe chiesto la convocazione di questo incontro sì ma non è che le cose non vadano bene secondo il nostro desiderio noi cerchiamo di sforzarci non so in che misura ci riusciamo di capire bene cosa pensano i cittadini a lì mi riferivo ai cittadini non sono stato chiaro i cittadini sono i cittadini sono critici nei confronti di questa amministrazione voi raccogliete questa questa critica che avanzano i cittadini e se ci sono da fare aggiustamenti facciamole per dare le risposte che poi i cittadini si aspettano è così o no? è esattamente così sì ma non è che i cittadini siano affetti da una sorta di paranoia per cui dichiarano la loro insoddisfazione per partito preso c'è una condizione di disagio diffuso della città che non è determinato dalla giunta né tanto meno dal sindaco ma da fattori che sono risalenti a cause così datate così estranee alla nostra stessa città che determinano necessariamente una risposta che non può essere data soltanto sulla base dello sforzo che il sindaco profonda nella sua attività e soprattutto neanche con l'ausilio che gli possono dare gli assessori occorre una rivolta politica che si trasformi in una proposta adeguata sono grandi questioni la bonifica se ne parla con un'insistenza che ormai forse rischia di infastidire chi ascolta questo termine a che punto siamo cosa si deve fare il governo non risponde a ragione il sindaco e se da solo non ce la fa a fare in modo che il ministro venga qui che è una delle latitudini nelle quali maggiormente si avverte e si sperimenta dolorosamente questa sofferenza ecologica insieme dobbiamo sforzarci di farlo perché se non riusciamo a farlo bisogna prendere atto che non c'è con il suo modo elegante di sempre ha detto che il sindaco agisce in solitudine non ragiona da squadra no che manchi anche un pizzico di collegialità non c'è dubbio io mercoledì lo dirò ed è un diventa per il sindaco un punto di debolezza nessuno ha questi straordinari poteri per farcela da solo le giunte non sono state inventate per un capriccio del legislatore ma esattamente per la previsione del fatto che per governare bene una realtà soprattutto una realtà complessa come la nostra occorre un organismo collegiale raggiunto un organismo collegiale all'interno del quale c'è la presidenza del sindaco la guida del sindaco ma ci deve essere il contributo fattivo e decisivo di tutti la sua consueta signorabilità ha fatto riferimento anche a un'altra questione alla bonifica e al rapporto con Leni nell'ultimo incontro che c'è stato per preparare il bilancio il sindaco ha detto io l'accordo con Leni l'ho raggiunto lei ne sapeva qualcosa sul e di questo naturalmente dovremmo parlare o forse dovremmo parlare meglio dovremmo entrare in qualche dettaglio la fretta è una cattiva consigliera e la solitudine poi finisce per massacrare anche le migliori volontà per cui anche su questo soprattutto su questo se ancora ci sono margini è probabile che quando però avremo saputo esattamente come stanno le cose manifesteremo il nostro giudizio è probabile che occorra uno sforzo un po' da parte di tutti per ottenere qualcosa in più se è possibile l'avete capito cioè lui la chiama verifica noi continuiamo a chiamarla crisi perché secondo noi che se facciamo i giornalisti di questo si tratta ci stanno ponendo con forza un cambio di passo la provincia di Crotone attraverso il vicepresidente assessore al lavoro Pietro Durante comunica che sull'albo pretorio online del sito istituzionale www.provincia.crotone.it sono pubblicate da oggi le graduatorie definitive relative relative al progetto antica Crotone nello specifico si tratta dei corsi di formazione che verranno messi in campo per 400 soggetti per settori di mobilità in deroga è tempo di approvazione del bilancio anche alla provincia di Crotone ne parliamo con due esponenti della minoranza che stanno contestando le procedure parto difficile per il bilancio alla provincia almeno l'opposizione contesta la procedura il consiglio è stato convocato per approvare il bilancio il bilancio previsione 2013 è stato convocato per il prossimo 16 dicembre l'ultima data utile prima dello scioglimento ma l'opposizione contesta tutto contestiamo perché ogni volta è così non si può chiedere alla posizione di superare i meccanismi procedurale certo voteremo contro perché è un bilancio che non ci appartiene già è stato consumato gestito in maniera tale dove le commissioni praticamente non hanno avuto nemmeno la possibilità di avere prontamente l'occasione di valutare i vari atti amministrativi solo ultimamente comincia a funzionare seriamente la commissione trasparenza nel senso che arrivano le carte perché c'è un buon figlio che le certo perché c'è e viene gestita dall'opposizione ma la cosa non è solo il bilancio di previsione che bisogna approvare ci sono gli equilibri di bilancio che non sono state mai approvate adesso la legge prevede tassativamente il 30 di novembre ma già a metà anno avrebbero dovuto essere approvato un equilibrio di bilancio perché vanno approvati in genere con la tendenza ogni due mesi c'è anche il piano delle opere pubbliche c'è il piano delle opere pubbliche che ormai viene solo ratificato dal consiglio ma ci sono i soldi per realizzare quell'opera ma ci sono ci sono i finanziamenti i soldi dove li prendono per realizzare strade quelle che hanno messo nel piano ma loro fanno i furbi perché la cosa che conta conta il primo anno dove i soldi sono spendibili per il resto sono progetti che bisogna in linea di massima sì bisogna vedere noi dovremmo stare sulle carte ovviamente se poi anche qua ci sono delle cose che appaiono ma non ci sono mi pare che sarebbe un problema molto serio perché riguarda il mancato rispetto della trasparenza di un bilancio che è previsto dalla normativa vigente buono figlio avete abbandonato lui non c'era alla conferenza dei capi gruppo voi perché avete abbandonato la seduta? abbiamo abbandonato la seduta perché noi abbiamo inteso che il consiglio non si poteva convocare perché mancano mancano tutte le carte c'è una fotocopia di bilancio dove nemmeno si può leggere poi mancano tutti tutti gli allegati e quindi non ce la siamo sentita nel modo più assoluto nemmeno di chiedere la convocazione nemmeno di no nemmeno la convocazione perché se non ci sono le carte noi almeno vogliamo i giorni utili per non parliamo poi dei pareri che il parere dei revisori non esiste e poi è un bilancio già speso questo non è un preventivo è un consuntivo e ancora tutt'oggi alla fine dell'anno non c'è una carta io dico Ubaldo diceva che i soldi pensa che ci sono io dico che non ci sono nemmeno i soldi una cosa ho potuto per quest'anno per realizzare per le opere pubbliche dell'anno in corso dell'anno in corso una cosa ho potuto notare e io l'ho già detto altre volte che si sono messi l'anima in pace la conferma che hanno perso hanno fatto perdere 7 milioni di euro per le opere pubbliche che per questa provincia era veramente un sospiro di sollievo e per la disoccupazione e per le nostre strade che sono veramente in questi giorni poi con questo con questa alluvione le ha ridotto e proprio hanno dovuto chiudere delle strade perché quando non si interviene ebbene loro hanno fatto perdere questi 7 milioni di euro e la prova provata è che quest'anno non compaiono più sul piano delle opere delle opere pubbliche L'ANAS ha pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale l'esito del bando di gara relativo a lavori di messa in sicurezza della strada statale 106 ionica tra le province di Cosenza e Crotone gli interventi riguardano in particolare gli svincoli di Cutro Le Castella Crotone Torremelissa Ciromarina Crucoli Cariati Mandatoriccio Mirto Croesia Rossano e Crotone Aeroporto l'appalto dell'importo di quasi 4 milioni di euro è stato aggiudicato all'impresa di San Marco Francesco con sede a Ciromarina per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara www.stradeanast.it Stamane al comune di Crotone protesta di alcuni imprenditori sentiamo perché Esce un articolo di Loiero dell'ex presente della giunta regionale su un giornale regionale che dice la giunta regionale attuale quella presunta per Pescobelliti ha destinato da un'altra parte i soldi dell'alluvione del 2010 che dovevano avvenire a Crotone gli imprenditori che hanno subito danni stamattina sono venuti qui al comune per chiedere di mettersi in contatto con la giunta regionale per vedere di capire la fondatezza di questa informazione siccome l'ultima volta che mi avete intervistato avevo già preannunciato questo discorso che si ventilava nei corridoi quindi come puntualmente è successo il 2003 hanno fatto lo stesso blitz ai danni di Crotone danneggiandosi e destinando in altre sedi i 7 milioni di euro destinati agli imprenditori crotonesi per i danni subiti in quell'alluvione del 2010 4 novembre 3 novembre 2010 4 novembre 2010 va beh piccoli dettagli 11 novembre 10 e 11 novembre 9 novembre 2010 esatto adesso siccome hanno già provato e ottenuto la prima volta noi siamo intenzionati di andare a Catanzaro quando ci andate quando ci andate probabilmente andiamo stamattina stamattina voi andate a Catanzaro a Catanzaro e facciamo in modo che compriamo le catene ci chiudiamo lì e non facciamo uscire nessuno perché questa cosa non è ammissibile sono gente che non guardano in faccia a nessuno Crotone è debole e loro più ne abusano perché non ci sono istituzioni non c'è né prepetto né sindaco non c'è nessuno perché scusa Merino il 2003 sono state destinate le somme dal 2000 raggruppavano tutte le alluvioni le 20 calabriose dal 2001 al 2004 siccome l'agricoltura ha pagato la prima volta gli imprenditori agricoli avendo avuto danneggiati i terreni e li ha pagati con la stessa somma Alemanno ha fatto in televisione un ubrizi che aiutava gli agricoltori calabresi puntualmente li ha aiutati la provincia lì ha erogato la seconda tance sempre dello stesso importo dello stessa cosa evento calamitoso quindi sono stati paesi la rimanenza noi abbiamo fatto la spolla tra Crotone e Catanzaro sotto e sopra ci prendevano sempre in giro come hanno fatto dal 2001 e una adesso perché il decreto dovevano pubblicarlo quello del 2010 ci avevano promesso che lo pubblicavano su Burro della Calabria entro luglio in modo che entro la fine di settembre prendevamo il dovuto questi puntualmente ci prendono in giro e vi dirò di più perché hanno rinnovato le consulenze tre volte cioè pagano i tecnici i giorni di carte si pagano la rispese nostra subispa di nostri la somma è stabilita e quindi non completano l'iter perché trovano caville tutte quelle cose in modo che fanno tagli sopra tagli e all'imprenditore rimangono solo le bricciole quindi ora è ora di finirle perché noi siamo esasperati tutto quanto e dobbiamo andare alla regione a fare quello che non abbiamo mai fatto perché i crotonesi ripeto sempre non hanno fegato è scattato anche nelle marche come in tutta Italia l'allerta a botulino seguita al sequestro di una confezione di olive dolci nere belcolle venduta in un supermercato Eurospin di Forlì è risultata contaminata dal batterio il prodotto è commercializzato tramite Eurospin che ha provveduto ad avvisare i propri punti vendita affinché ritirino le olive del commercio e informino i propri clienti anche con cartelli affissi nei supermercati i cittadini si leggono in una nota delle regioni mar che sono invitati a non consumare quei prodotti l'associazione Anagramma Club comunica anche domani martedì 3 dicembre alle 15.30 presso il Centro Servizi per il Volontariato Aurora a Crotone si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento denominato Notte Bianca Shop and Music L'Aido di Mesoraca organizza per domani martedì 3 dicembre un convegno sul tema del trapianto di cornea dal titolo Trapianti e sorrisi guardare la vita con occhi nuovi alle 17.30 presso la sala consigliare del comune di Mesoraca ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e provincia si prospetta parzialmente nuvolosa visibilità ottima e vento di 12 nodi 14 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 10 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Marlionio tempo vento da sud forza 6 con locali rinforzi da sud-est e isolati temporali visibilità discreta localmente pessima mare agitato in attenuazione tendenza vento da sud-est forza 4 e temporali bene la nostra informazione è terminata grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti 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 grazie a tutti